Ridicola dei tre scalini, il giorno dopo una vittoria del Bologna, oggi si parla di elezioni, siete andati? Sì, già fatto. Però si parla molto del Bologna oggi. Il Bologna, che per una settimana adesso io sono al settimo cielo. Ma questa tensione per le elezioni, vedo anche qui ci sono delle persone tesi. Siete tesi? Sì, no, tesi no, siamo tranquillissimi, perché i maccheroni li mangiamo anche domani. I maccheroni li mangiamo anche domani, quindi questo è fondamentale. Chiunque vinca. Sì, chiunque vinca. Però se vinciamo noi è meglio. Il nostro dovere l'abbiamo fatto, speriamo di vincere. Come in Bologna? Sì, come noi. Noi, noi non si sa poi chi è perché poi delle volte anche sì. Noi di Bologna. Noi di Bologna. Noi di Bologna. Il Bologna ha vinto, il maccherone c'è, quindi la chiave è che il maccherone c'è. C'è. Condito bene? Condito bene, questo è il tema di oggi. Non condito, condito. Sì, vabbè, facciamo anche le battute. L'edicola è in trionfo totale, non c'è tensione di elezioni. Oggi il concetto è che il maccherone comunque c'è. C'è.